Ciao a tutti, avete letto nel sito del Milan del mio infortunio, ieri per me è stata una brutta giornata perché sinceramente non me l'aspettavo in questo momento un infortunio così è stato veramente brutto, difficile, ho parlato tantissimo ieri con la società, con Garleani, con i dottori per decidere un po' di cose e alla fine quello che ho deciso io che non voglio niente dal Milan, tranne il sostegno e l'affetto in questo periodo finché non sto bene, finché non sono disponibile a giocare e sono a disposizione del mister per questo ho deciso di autosospendermi gli stipendi per questo periodo, l'unica cosa che ho chiesto del Milan è questo, il sostegno e l'affetto per guarirmi bene da oggi ho iniziato già le cure e devo dire che il vostro affetto, tutto quello che ho sentito in questi giorni mi dà una carica e mi motiva a essere in campo il più veloce possibile momento duro, difficile però da oggi già ho iniziato le cure e spero essere in campo il più veloce possibile per dare un po' di gioia a voi e anche a me grazie